La cultura del vino si fonde con quella del cibo. Domenica 12 e lunedì 13 marzo torna al Real Collegio di Lucca Anteprima Vini della Costa Toscana, che sotto il cappello di Lucca Gustosa si arricchisce quest'anno del nuovo format Condimenti, a cura dello chef Cristiano Tomei e con la partecipazione, tra gli altri, del pasticcere Damiano Carrara. Per la due giorni sono attesi in centro storico 70 produttori vinicoli per oltre 300 etichette in degustazione. Un viaggio dal nord al sud della regione, passando per le isole dell'Arcipelago. Siamo a marzo, i vini sono davvero in anteprima, sono davvero vini ancora non usciti sul mercato e soprattutto questo nuovo programma con lo chef Tomei e Carrara che porteranno una novità di abbinamenti inusuali e divertenti con i vini di Costa Toscana. Abbinamenti inediti ma anche occasioni di confronto e scambio con grandi talenti della cucina e della cultura. Alla tavola di Cristiano Tomei passeranno ospiti importanti come Marco Malvaldi, Gennaro Esposito, Gianfranco Pascucci, Michele Marcucci ed Enrico Recanati. Cerchiamo di trasmettere la passione per la territorialità anche, no? Il che non significa solo territorio, materie prime, il chilometro zero e queste cose, ma significa un contesto socio-culturale che vuol dire sovrapposizione, vuol dire belle contaminazioni. È quello, ma noi staremo a tavola come degli amici. Questo è condimenti.